Ieri ha piovuto veramente tanto, guardate oggi, ha grandinato addirittura oggi. Grazie per le 100 visualizzazioni, vi voglio bene e mi trovate sempre qua nel mio canale YouTube. Mi piace fare video, continuerò a fare video ogni giorno, domani non penso che farò video, quindi ci vediamo tra due giorni, però intanto vi voglio lasciare questo video. Almeno un minuto ve lo guardate mio, quindi vi aspetto domani, dopo domani, perché domani c'è la scuola e devo fare i compiti, sono impegnato quindi no, però dopo domani sì. Ciao ragazzi, spero che il video sia piaciuto di fuori, guardate le nuvole, domani e dopo domani danno neve, fare un video con la neve, ciao ragazzi, ciao!